Oggi facciamo insieme la Fayette Croissant, ovvero il Roll Croissant. Prendiamo un rotolo di pasta sfoglia rettangolare, stendiamolo con un mattarello, mettiamo su dello zucchero semolato o zucchero di canna e passiamo di nuovo sul mattarello. Tagliamo delle striscioline, uniamole l'una con l'altra e iniziamo ad arrotolarle. Mettiamole in teglia con un coppapasta oppure come ho fatto io con della carta stagnola. Una volta cotti possiamo mettere all'interno ciò che vogliamo. Io ho messo della Nutella, dentro e anche fuori, e un po' di granella di nocciole. E in cucina con mamma vi auguro un buon appetito! E mi raccomando, restate sazzi! Ciao amanti della cucina!